La società di oggi ha un grande bisogno della testimonianza di uno stile di vita da cui traspaia la novità donataci dal Signore Gesù, fratelli che si vogliono bene pur nella differenza di carattere e di provenienza di età. Questa testimonianza fa nascere il desiderio di essere coinvolti nella grande parabola di comunione che è la Chiesa. Lo ha ribadito Papa Francesco nel discorso ai partecipanti all'incontro del Movimento dei Focolari sulla reciprocità dell'amore tra i discepoli di Cristo. Il Papa ha notato che fare nella Chiesa la casa e la scuola della comunione è la base di ogni impegno nell'evangelizzazione. Coltivare la spiritualità di comunione contribuisce a renderci più capaci di vivere il cammino ecumenico e il dialogo interreligioso.